chat è diventata è diventata uno zoo perché voi permettete permettete questo bestiasce a me d'altronde delle bestie che t'aspetti siano dei suoni gutturali e degli strani odori bentornati in questo nuovo ed incredibile live dedicata al horror però io questa volta non sono felice non sono felice perché a malincuore è passato un anno ragazzi quasi quasi un anno forse anche di più non ne ho la minima idea da quando abbiamo iniziato a giocare a evil nun da quando qualcuno di voi pazzo in culo mi ha detto dino c'è questo gioco e questo gioco è un bel gioco giocalo e queste parole mi hanno ispirato ragazzi pensate dopo ho acquistato il gioco e l'ho giocato e abbiamo fatto conoscenza della suora abbiamo scoperto quello che è un titolo in realtà banalissimo scappa da una stronza armata di maglio da guerra nel mentre che ti vuole educare che però ci ha fatto compagnia per un anno un anno che giochiamo bene o male tra un mese e l'altro a suor matilda perché questo è il suo vero nome anche gli sviluppatori dei simpatici ragazzotti spagnoli del piccolo cotolengo ormai la chiamano suor matilda perché canonico è canonico e quindi mi dispiace che questa sera probabilmente sarà l'ultimo gameplay su suor matilda non perché io non voglia più giocarlo ma perché ragazzi abbiamo finito tutto abbiamo finito il gioco questa è la faccia di uno che ha finito il gioco abbiamo finito il gioco c'è che cazzo c'è altro da fare certo volendo possiamo provare a platinarlo ma io non ho tempo da perdere d'altronde il gioco non è così bello però ecco abbiamo quasi completato suor matilda suor matilda è quasi completa quasi ascende al cielo diventata direttamente santa direttamente santa bestiace incredibile grazie hartan grazie alice lost in the mandian grazie anche a daniel grazie anche a spavioschi poi chi altro chi altro sparaflex it's pickly rick gypstar afflec grazie bestiace roto valhalla grazie per le per le per le sub per le iscrizioni e le sottoscrizioni mi sono ingoiato l'umola allora bestiace intanto sappiate che sono arrivati e se non li avete acquistati beh peggio per voi i magnifici calici pieni di ditate pensate queste ditate vi arrivano a casa e sono le nostre incredibile c'è proprio anziché firmare noi tocchicciamo i nostri articoli poi ve li inviamo guardate che meraviglia gustate godete guardate quanto è bello con il rimando al signore degli anelli che alcuni di voi hanno colto questo piccolissimo è dettaglio quasi invisibile e questo che è il calice appunto il calice di vetro the beer glass collection edition del della versione estiva del nostro calice cop tv che riprende quelle che quella che è la che sono le divinità estive quello che è il rituale della del raccolto per quanto riguarda mitologia non re in realtà gallica celtica vi ho spiegato qualcosina su instagram andate su instagram e vedrete un pochino di più che cazzo significa questo che tra l'altro è molto bello ci sono ovviamente anche le magliette inerenti a ciò mi raccomando fino a sfinimento scorte edizione speciale che state aspettando incredibile offerta fatelo quindi mi raccomando bestiace perché prima o poi finiranno e poi vi lamentate con me dite ma le magliette le magliette ragazzi le magliette ci sono sono lì sono sempre state lì detto ciò arriveranno altri prodotti chi è che di voi ha detto fa schifo vergognatevi vergognatevi so che stavate pensi stavate era riferito a me non hanno il calice lo so ma tranquilli sono un maschio so prendere un'offesa me ne sbatto il cazzo allora attenzione però tg dino di consueto notizie succulente di quello che è un gioco che mi sta portando via a molto tempo baldur's gate anche se mi è data la perversione un po del gioco diciamo come definirlo questo gusto un po promiscuo del gioco amo chiamarlo baldur's gay quindi stasera bestiace tg dino con notizie succulenti inerente a questo titolo partiamo con attenzione 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 ebbene sì hanno trovato un pesce che un altro di questi cazzo di catfish in america e gli hanno dato il nome di frodo baggins incredibile ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta bestiace ci siamo riusciti ci siamo riusciti sti cazzo di pesci che camminano adesso hanno un nome giustamente il camminatore chi meglio di frodo che si è fatto tutto il continente a piedi eccolo qui eccolo qui che bello è questo questo il pesce frodo il pesce frodo è proprio un frodo di pesce guardate guarda guarda il primo cretina che dice verrà bannato ora detto ciò attenzione perché poi ci sono le vere notizie inerenti a baldur's gay scopriamo anche che per fare il ruolo di per entrare a far parte di man in black il nostro beneamato will smith lo schiaffatore lo schiaffeggiatore professionista è stato ecco diciamo corrotto da steve spilber con una telefonata e un elicottero e un succo all'arancia questo 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 c'è nero su bianco né non non l'attore nel senso il il fatto è storia quindi fate voi fate voi fate cazzo voi incredibile incredibile altra notizia altra notizia inerente al nostro baldur's gate e certo e certo eccolo qui redhead redemption arriverà soltanto per playstation 4 e switch non ci sarà la versione per pc non me ne frega un cazzo francamente tanto il primo fa schifo però insomma un po gira ma perché poi non c'è neanche la versione per pc 5 scusami cioè non ha senso però vabbè faccino loro a me non mi interessa più sinceramente sono anche stanco un minuto di silenzio no no che perché chi se ne frega chi se ne frega altra notizia altra notizia dov'è la voletta era importantissima proprio non ci si può perdere in questa cosa ah sì 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 questa notizia invece riguarda il nostro caro tom holland ogni personaggio di baldur gay baldur gay esatto si veste con delle diciamo un intimo grazie grazie chi è grazie guerriera celtica per avermi interrotto grazie mille hai comprato la maglietta brava brava si veste con un intimo firmato attenzione firmato particolare soltanto per lui scritto composto e ideato soltanto per il suo fisico guardate tra l'altro questo incredibile elfo vampira era giusto saperlo ragazzi era giusto saperlo quanto pare necessario quanto pare ragazzi tutte le notizie inerenti a quello che è baldur's gate è questo scopriamo anche che aspetta 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 dov'è che l'ho letto prima che sono rimasto sconvolto non trovo più la notizia perfetto ah sì 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 c'è pensate un attore che ha dato la voce a a baldur's gate ha detto di essere assunto soltanto per fare i sexy sound un attore uomo cioè tu dici un attore uomo che è andato lì prova prova uno due sma sma ci siamo? ok ah questo è ciò che ha fatto per tutto è stato pagato non so quanti milioni solo per questo suono rendetevi conto stax grazie mille bestiaccia roto valhalla e funziona così verso poco virile sì sì proprio c'è scritto poi nei sottotitoli verso poco virile quello è il suono che faceva il vampiro di prima no però c'è se ci pensate è allucinante tra l'altro hanno detto pure che hanno 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 prese richieste d'aiuto in video hanno Dino non sapevo ah mi dispiace e hanno preso anche attori proprio diciamo del settore ecco quello come si può definire senza magari per un po' quelli proprio bigotti del il porno hanno preso attori ecco che sono abituati ecco a cioè a a farlo il suono e e niente e niente mi vuoi adottare no e quindi insomma è che questo è e questo è ho preso la taglia che mi consiglia che mi consigliò lavare sui G che al mercato mio padre comprò brava hai fatto bene hai fatto bene che c'entra Maria Sofia ah sì giusto beh probabilmente qualche suono l'ha fatto anche lei allora bestiacce stasera io direi bando alle ciance ciancio alle arance e buttiamoci in questa nuova avventura dedicata all'occulto dedicata al ehm allo scandalo su Armatilda i suoi segreti e i segreti del prete ci siamo bestiacce via si ritorna si finisce dovete darmi una mano non mi ricordo un cazzo quindi buttiamoci è buona eh dobbiamo trovare il calice per fare l'ultimo capitolo gli ultimi due capitoli ma mi sa che non finisce stasera ci sono due capitoli da finire quindi ho sbagliato completamente ma vabbè ma vabbè ma vabbè è ancora in accesso anticipato sapete che ragazzi credo di aver fatto un enorme errore perché non è l'ultima puntata questa di suor Matilda vi ho mentito vi ho mentiti vi ho mentiti ragazzi era un popolo antichissimo pensate tra il frate e l'offriti c'erano gli ho mentiti gioca ah i saluti brava guardate la vale come si interessa di voi sì ho sbagliato arrivo vi saluto non riesco però così non riesco come si fa così si funziona oh là là massi sakura skabush noha elise daniel daxin noha ancora professionista lasofil nardo nerdo noha caffè caldo daenerys amorevole balbereth pinorial lori lori ghim alexi grazie mille per stai aceruto la hall grazie anche alexus e poi grazie anche a marca c'è alexis ma allora vi siete fusi in un unico essere in queste giornate gaia chan pane 69 mao poi renzu guglie barone rosso kjong wolf girl chiamami cap silesia noha poi chi altro haribels messi lucrezia perdonatemi no quello era il nome di un utente proprio perdonatemi poi chi altro chi altro daniel puelo grazie mille per stai c'è a roto valhalla grazie a emily roto valhalla anche a te dio cavatappo ci sarà sicuramente le religioni sono molte boom bam bam best yako heartran lei doppia m ultimo ma non ultimo ma forse meno importante lo sapete ormai è classico è canonico anche di questo c'è da farsi una maglietta secondo me sono ultimo ma non ultimo e forse meno importante bellissimo bellissimo è da tatuarselo ragazzi sul bicipite anzi sul retro del gomito un dolore cane un dolore cane chi è l'ultimo qualcuno di nuovo non c'è vabbè dai cleo rabbit grazie mille bestiaccia 25.05 salutiamo un po' sti sub poveraci che sono l'ultima ruota del carro che alimentano in realtà il fuoco di cop tv io ci tengo a precisarvi ragazzi grazie precisarvi a ringraziarvi grazie veramente per il vostro sostegno altrimenti non mangio non è che c'è tanto da fare via partiamo beh ah ok contenuto roadmap l'eccesso anticipato il giochi e via è andato via l'audio per un istante ma sta andando la chat si è rincoglionito qualcosa aspetta non so che aspettate mi sa che mi si è rincoglionito bs io non faccio le magliette con la scritta sono l'ultimo ma non l'ultimo no no sei l'ultimo vogliamo vedere vogliamo vedere i bambini allora io mi dissocio completamente da ciò che sta accadendo in questo preciso istante non c'entro niente l'ha detto lei e via con dinosaurus che forse si estinguerà stasera tieni premuto lo spazio per essere libero e questa frase direi piena di significato carcando ora ve lo dico sono un po' un po' sul filo del sono leggermente nervosetto stasera quindi ho lo spavento facile mi sono spaventato sette volte oggi pensate cinque delle quali è colpa sua non dirò il nome ma è di un'altra persona che sta in questa casa esatto itil no no è colpa della vale come mai ma che cazzo ne so io qualcosa mi avete fatto allora andiamo prima di tutto a vedere giù quello che ci occorre mi raccomando ragazzi 250 grammi di farina 150 di uova e una suora ecco già si sta seguendo datemi un feedback per l'audio sentite do you send allora vedete che abbiamo da fare ragazzi ho sbagliato tutto c'è uno due tre quattro capitoli da fare ma non lo finiremo mai stasera era un titolo clickbait ci siete cascati bravi complimenti vedi leggete il titolo subito vergognatevi vergognatevi ma io non lo so come alza un po' ma che alza un po' andrea ma smettila ma smettila ma smettila io ho la stessa relazione con andrea ha detto relazione si che ha parenzo con la zanzara ormai io e lui siamo iniziati alla zanzara siamo il bene e il male ovviamente lui è il bene non si apre un cazzo oh ma io la sento camminare dentro di me sono passato attraverso il condotto di areazione beh mi sento areato chi è che mi ha mallato qua un pacco amazon vabbè dobbiamo cercare il calice de calice so che sei bye so che sei vicino grazie di qua salgo ascendo ahhh guarda come non me ne frega più un cazzo perché conosco perfettamente l'intelligenza artificiale conosco perfettamente come muovermi all'interno di questa struttura e so che la suora non ci fa del male perché lo vuole ci fa del male perché lo è è cattiva di suo dov'è il la sento merda mi è passata a fianco dov'è il fusibile ragazzi where is the fusel trovato trovato mouse button quindi vuol dire topo culo lascia shh si zitti zitti buona sera chiudi non chiudermi fuori chiudimi dentro shh zitti zitti ho tutto sotto controllo muoviti com'è l'audio com'è l'audio com'è l'audio si sente alto mi fa molto piacere sarà così per tutta la sera alto yes ok dovrebbe teoricamente essere fuo no non c'è scritto dovrebbe teoricamente è un suono per attirarla vedere se è qua nei paraggi dovrebbe teoricamente essere via dovrebbe essere qua nei paraggi il calice veloce eccolo 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 mamma mia che culo signori che performance stasera veramente vedete il 100% diamo il 100% mia una coppa magica la coppa del nonno è a più o meno questo colore lo stesso sapore le stesse intenzioni pensate la coppa del nonno è fatta col nonno arca miseria che infarto tattico allora una strategia vincente potrebbe essere quella di vincere di non essere vinti è lenta è lenta dai sembro sembro un un affabile uomo uomo d'affari un affabile uomo d'affari un ricco uomo d'affari con i Manu Martini che se ne va in giro per la mappa mentre una suora con un maglio da guerra vuole cercare di convincermi a fare un nuovo corso di trading online così da farmi perdere tutti i soldi che ho ho fatto giro giro tondo e ho vinto testimonianze testimonianze spaventare come esci? o faccio quello che mi dice non ha mai detto esci però cioè in che senso esci? in che senso esci? vabbè sta arrivando la sento non era lei questa sta arrivando è dietro di me ragazzi hai appena iniziato a giocare? no è una maratona è da 5 ore che sono qua non ce la faccio più chiama qualcuno aiutami ti prego per favore ho bisogno di una mano mi stanno costringendo a farlo io non volevo eeeh devo dove cazzo sono? le scale? dove sono le scale? di qua la fatica eeeh di qua ok ok ole chiudi perfetto boom si ride e si scherza però effettivamente quello che state vedendo è la cosa più realistica eeeh è l'immagine più vivida di quello che effetti di dove effettivamente vivo io perché è esattamente io non non è il piano terra è il semi interrato è il semi interrato il mio luogo d'origine la muffa l'umidità l'odore la mia casa ok aaa porta rosa? aaa la stanza ma la stanza rosa ragazzi non era quella che si chiama dinosaurus? non è la mia stanza? però c'è il tuo nome quindi questo disegno l'ho fatto io il cappello estivo è molto divertente non ero mai stato picchiato eh? perché i miei genitori non hanno molti soldi torna tutto sto facendo molti sto facendo molti amici sto facendo molti amici li sta proprio costruendo molti amici e se li abbiamo vestiti velocemente abbiamo sempre un premio non ho capito lei è brava ci tratta molto bene di tanto in tanto ci lascia guardare attraverso un piccolo foro dove vediamo gli uccelli strano? sono belle creature anche se molte volte canto sto facendo fatica molte volte cantano forte molto forte dobbiamo metterli a tacere la carne degli uccelli non è molto buona ci piace di più un antipasto di bambino quindi abbiamo la chiave vi giuro io ho il terrore che ritornando su per queste scale mentre fricca la raluce me la vedo lì davanti i suoi occhi rossi ok striscio un vietcong i bambini sono deliziosi ok compagno procedo ci sono un rumba tattico non tiro sulla polvere non pulisco l'ambiente ma so anche so anche cosa sto facendo incredibile intelligenza artificiale ragazzi raggiunto livelli via madonna non salire mai più le scale d'acqua vacciata ok di qua di qua la sento ma non la vedo dov'è? oddio è vero che qua c'è suor Matilda fuck è lì non mi vede tranquilli non sta per salire mica due coglioni beh no che due palle ma basta ma da vieni qua allora un rapido calcolo di quello che devo fare oddio 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 dov'è? dov'è? ma perché non corro perché non corro cioè io ho sempre per rafforzare le ossa ho sempre bevuto da piccolo litri e litri di latte adesso ho un'intolleranza all'attosio però cioè voglio dire dovrai teoricamente avere i tendini e le ossa resistenti per poter sostenere una corsa almeno di tre metri al secondo intendo allora porta rosa porta rosa porta rosa non esiste perché il rosa stesso non esiste citti il maestro eccola qua dinosaurus questa è la nostra porta ah scale ma che cazzo beh però beh però signorile hai quasi raccolto tutti i pezzi delle maschere questa volta dovrai dimostrare le tue abilità e la tua coordinazione all'interno della stanza rosa c'è il tuo nome ti aspetta un gioco da completare ma che è solo enigmista voglio fare un gioco con le scusatemi il pollo nell'aia c'è un pollo che può esserti d'aiuto ma fai attenzione alle api lungo la strada ah il generatore hai bisogno di aiuto per mantenere in funzione il generatore della stanza rosa chi potrebbe beccare costantemente il pulsante suor filippa ma certo prendi la mira e spara ottieni il punteggio richiesto colpendo le zucche come prendi la mira e spara non posso sparare alla suora ci togliamo tutti i problemi ah qui mi posso nascondere quindi lei può venire di qua infatti credo che stia venendo la suora sta venendo no 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 shh zitti eschi zitti eccola oddio no madonna oh no la compenetrazione poligonale avete visto il martello è entrato dentro al mobile ok edi esci mi acquatto dov'è porta rosa un'altra dove cazzo sono sta arrivando sta arrivando io non so dove andare ok dov'è ma dove cazzo mi trovo ma che succede non mi so non mi so non mi so non mi so orientare io io aiuto ma che va bene allora vediamo se nei bagni c'è qualcosa sorpre non c'è niente ma che cazzo ah finestra della stanza rosa posso entrarci c'era una mano non ho letto credo sia credo sia la strada giusta oh no oh no no veloce 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 attenti i vetri attenti i vetri shh shh ok ok zitti zitti eccola la vedo è là la vedo è là zitti ah è con questo che sparo che diavolo è sto a fare non riesco a passare rampa di legno per il generatore ok generatore della stanza rose ho bisogno di aiuto affinché il pulsante rimanga premuto ok qualcosa di ma questo è il mio letto ah è nei muri è nei muri ok quella porta credo che non la possa aprire 150p per un pezzo della maschera ah bene ah siamo tornati qua ok e generatore nella stanza rosa è spento ok quindi generatore attiva questa trappola mortale pensate l'ultima volta che sono andato dal barbiere per tagliarmi i capelli e voi direte che è una lunga storia a parte il fatto che sono finito così ma la sedia era uguale ci serve qualcosa per ma scusami ma se io mettessi uno di queste non posso mettere uno di questi cubetti di legno qui sopra no qualsiasi oggetto non può andare bene la mano per tenere giù il tasto premuto brillante ti serve il pollo nell'aia c'è un pollo che può esserti d'aiuto ma fai attenzione alle api ho bisogno di aiuto per mantenere in funzione il generatore della stanza che potrebbe beccare costantemente il pulsante ah ok ah quindi cazzo ma dimmi che il pollo mi deve seguire io devo farlo salire qua sopra vabbè vabbè allora ci serve ci serve il pollo come faccio a far sì che le api non rompano i coglioni serve tipo un affumicatore allora controlliamo tutte le stanze anzi passiamo prima di qua salve un dormitorio ah eruditi i bimbi ma quanto leggevano ecco perché sono morti perché chi è curioso finisce all'inferno così mi ha detto la sua ora procedo un dormitorio eruditi i bimbi ecco perché sono morti perché chi è curioso finisce ah cappello cappello indossa oh criss non vedo un ca aspe ok abbiamo il cappello per le api ok ha senso così le api non possono farci del male saliamo dobbiamo andare in giardino minchia ma è una strada che non mi ricorderò mai ragazzi vado ma se me lo metto vado più lento no ma non vedo un cazzo però concreto erca miseria madonna il mangiare ti serve per farti seguire dal pollo non posso afferrarlo dal per le zampe ok calmi calmi cristo un presagio ma silenziosa porca puttana ma siamo fuori di testa ma va a cacare suora ah ah sono già dietro le sbarre è mancata l'aria magari troviamo la gallina dall'ovetto kinder ragazzi allora da piccolo facevo una cosa con col mio pollo ho sempre avuto un pollo da compagnia mangiavo non so se anche voi avete mai provato a mangiare un ovetto kinder intero eh ma basta ma mi lasci parlare cinque minuti non la vedo neanche si ovvio bravi ma l'avete tolta la sorpresina dentro perché io no dai però entro oggi sta arrivando ecchila ecchila il distributore è bloccato ma perché mi spavento sapevo che era lì un po' di acqua santa via this is practical child l'inglese una lingua consola solo da bambino stava morendo devi mettere il pollo sul generatore grazie mi devi dimmi tutto il gioco dai dai raccontami tutto quello che devo fare fatica ragazzi allora le api sono qui dov'è il pollo dov'è il pollo where is the pole ci hanno fatto anche una canzone where is the pole non ho letto eccolo zitto zitto zitta ci crepiamo così no suora no suora si faccia i cazzi suoi suora oh dio oh dio la vedo la vedo grigia ma può entrare qui si può entrare qui via ma il potere divino non permette che le api riferiscano la suora è scritto nella scienza proprio allora come faccio a prendere il pollo ma ci sono due suora adesso suora allora eh suora mi lasci suora con calma dove mi trovo cos'è successo dove sono ah ok ho girato la visura e non ho capito più un cazzo allora con calma con calma eh e quatta quatta zitta zitta allora a parte l'enfisema che mi sto provocando autoindotto serve il cibo ed è ho bisogno di aiuto per mantenere in funzione il generatore della stanza che potrebbe beccare costantemente il pulsante prendi la mira e sparo tieni il punteggio richiesto colpendo le zucche si però che cibo dove lo trovo il mangime per il pollo e soprattutto come faccio a dargli il mangime cioè mi manca mi manca un'informazione vediamo se qua da qualche parte c'è il mangime è bello buonasera ah eruditi i bambini però forse per questo che sono morti perché chi è curioso finisce l'inferno non so che malattia io abbia ragazzi credo di entrare a far parte di quei simpatici personaggi del web che una certa flippano di mente e dicono guarda ho la tourette per giustificare il fatto che ormai sono oh guarda un dormitorio figa basta è lì? dove? era lì il mangime? non ci credo come cazzo avete fatto a vederlo? c'è vabbè bravi lascia caderlo e vabbè ma come faccio scusami come devo fare? feci un collegamento neurale con gli ultimi due neuroni rimasti e pensò pensò a lungo ma non ne venne a capo allora il cibo lo posso mettere in tasca il cappello lo posso mettere in testa suora si calmi oddio suora mamma mia l'abbiamo scampata tantissimo marmotta style abbiamo spaventato il pedato sta tornando ok shh zitti fica è ossessionata suora ti devi levare però suora con tutto rispetto ti devi levare mi fa male tutto attenzione mi fa male il petto il braccio mi formicola ci siamo ci siamo e che gli mancano i suoi bambini ah beh tranquilli tanto non verrà qua adesso si fa un po' i cazzi nostri dobbiamo aspettare che lì a rielabori prova a mettere la tuta cioè io ho un infarto e tu mi dici prova a mettere la tuta grazie grazie allora credo che quello che dobbiamo fare è metterci il cappello figa non si leva dai coglioni con tutto rispetto eh con tutto rispetto eh se ne vada credo che quello che dobbiamo fare è metterci il cappello andare al cancello aprire il cancello con il cappello tornare indietro lanciare il cappello prendere il mangime prendere il pollo si lo so ragazzi il rap è la mia prossima meta la mia prossima tappa prendi tutto ok non ho capito come? vabbè allora ascolta lascia anzi si la ma il suono caratteristico ricordiamoci questa stanza eh dove devo andare? di qua? oh un dormitorio figa basta di qua dov'è? dov'è? ok via libera non posso allora indosso il cappello e prendo il cibo eh sì ma l'ho fatto prima l'ho fatto prima non ha funzionato riprovo riprovo dov'è? di qua? oh un dormitorio dio non posso togli il caffè non posso non posso è incapace questo bambina è incapace non so non so definirlo non so chi sia non so come sia fatto credo sia una bambina che urco che si chiama dinosaurus i genitori non sono stati molto clemente con lei ce lo diceva per trama che forse noi siamo la bambina figlia della suora non solo è suora ma è anche madre per definizione ecclesiastica anche padre ma il cancello l'ho già aperto ma quindi fammi capire se io non mi se io mi tolgo questo posso passare? non pensavo che le api ci colpissero a sassate e la madonna mamma mia a posto mi sono ripreso? bom vabbè e siamo sicuri che dobbiamo riprovare allora facciamo attenzione però nella cagata abbiamo fatto una cagata nella cagata siamo riusciti a fare una stronzata perché se ci pensate siamo doppiamente nella merda perché adesso abbiamo il sacco con il cibo con il cibo per i polli vicino al pollo ma sotto le api anzi no scusatemi il cappello per le api e sotto le api quindi noi volendo possiamo prendere il sacchetto col cibo e andare lì e trovare due item sotto le api vicino un dormitorio procediamo non so dove cazzo sto andando di qua ma di qua non posso non è più veloce di qua io non lo so ma che è successo sono incastrato ok ah sono le porte automatiche che spavento sti suoni su ora e vabbè però che luce zitti non c'è non so dove sia zitti mi sa che è rimasta ancora là ho un radar vi giuro sto captando sto cercando di captare ogni singolo suono erca puttana vacca micchia ma è silenziosa come una rana non riesco guarda va che minaccia oddio non posso lanciarmi come un salmone fuori dalla finestra e ci mancano ancora quattro capitoli c'è un cancello non aperto nel pollaio un cancello non aperto nel pollaio allora andiamo prima a prendere il cibo e torniamo al pollaio e per farlo dobbiamo andare ragazzi ho problemi digestivi posso fare quel cazzo che voglio è un bonus dell'anzianità ok anzianità ha quasi 30 anni però vabbè avete capito nel senso dopo un po' che il corpo va male non è che puoi fermarlo ok abbiamo il cibo come faccio non così non così lancia il cibo non stai guardando il pavimento ha senso no c'è io mi devo far seguire dal pollo è la fine posso già preparare la scia no 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 potrei creare confusione io che pensavo allora scherzi ma oggi in palestra un simpatico signore un signore siciliano che si chiama come può chiamarsi un siciliano esatto Tony un palestrato gigante di 50 anni gli ho detto la mia età e dice no no italiano no è impossibile è impossibile e niente non ci credeva non ci credeva te ne davo almeno cos'è che mi ha detto spavento allora il pollo è là ma se io lancio qua il cibo qui bello allora il cappello c'è e come cazzo faccio ragazzi ah ho capito è difficile ma si fa allora allora qua qui qua ho appena lasciato il cibo dovrei aspettare un po' no sta arrivando la suora no pollo suora suora beh che è tutto un po' di cibo suora 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 no si calmi pollo suora pollo chiudi lancia prendi pollo suora cappello no no allora è un livello di merda ma ho capito come funziona il problema è che non devo avere ansie di alcuna sorta si si pollo suora cappello ciuchino ragazzi c'è un'altra porta Dino non l'ho vista ho letto il tuo commento ma non ho visto l'altra porta c'è un cancello vicino che non hai aperto non l'ho visto dove cazzo sono oh no figa va ok ok è lontana è lontana è lontana dobbiamo trovare un modo di rinchiuderla o di rincoglionirla per un determinato lasso di tempo spavento cosmico che ho avuto sta scendendo pare di no allora il cappello dov'è dimmi che il cappello è dall'altra parte si apre dall'altra parte ok abbiamo fallito completamente il gioco ragazzi perché il cappello è rimasto di là ma siamo deficienti l'entrata nell'orecchio come facciamo come facciamo come facciamo su ora gli lancio il cibo per porli ora sono due gli item che ho lasciato che sono al di là del muro d'api quante volte dobbiamo toccare con il mio hammer solo un po' di più e sarai pronti per lavorare nella padella dalla padella alla tomba aprire la porta dove c'è ma secondo voi miei cari e dolci ragazzi miei cari e dolci discepoli secondo voi io non ci ho provato non ho schiacciato il tasto e per aprire la porta il tasto di e di apri porta certo che l'ho fatto allora torno al menu principale yes vediamo se facendo continua mi fa ripartire mi fa ripartire da qui eh però dobbiamo ritrovare la mamma mia che sorriso avvenente continua continua posso cambiare nome volendo ma non lo farò minchia sci esatto ce la possiamo fare ragazzi è un gioco di mani quello che dobbiamo fare da villani quale siamo ok teoricamente si era zerato tutto però dobbiamo comunque andare a prendere i calici che abbiamo perso da qualche parte non so dov'è ma teoricamente dovrebbe essere per forza fuori teoricamente fuori dalla struttura dove cazzo è? sta arrivando sta già ho due bastarda è qua il calice no scusa è qua fuori è qua fuori no ok e ok ok apri qua ok ok no no dov'è? ma porca puttana ma perché? fa puttella aiutami a salvare quest'anima perduta ma guarda ho il tom tom tranquillo dov'è? che battuta infelice Dino che battuta infelice questo siete voi dov'è? dov'è? entro entro oggi fusibile shh zi fe shh ho il controllo shh zi fe entro oggi ok calmi calmi double smash per suor matilda smash pass spas smet dino smash o pes per suor matilda spam shish spas lol cosa? bam Lives pap pap dai che già sono rincoglionito io ragazzi se mi rincoglionite pure voi sai cosa manca a questo gioco un mitra ma manca la possibilità di di espandersi di sporgersi tipo quei giochi strategici FPS che piacciono tanto a come si chiamano quei ragazzotti caparbi e capaci i problematici lì Gli streamers Tipo coso Dai figa Gli fps su dove fai pum pum Ehi coglioni La madonna che male ti han fatto Rainbow Six Siege Sì sì Zitti Sono concentrate Velo Velo Ok Il cancello ha fatto molto rumore Grazie Ma io ho sbagliato strada Però il calice non è di qui Ma che sto facendo Vabbè ho aperto la strada Per possibili e future Vabbè ma suora Ma lei è veramente È onnisciente È veramente ovunque Non Aspè È veramente il dono dell'ubiquità Guarda Non ci passi Porco due Ok Troppa ansia Fai Ok 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 Non mi tocchi Non mi tocchi Non mi tocchi Non ci provi mai più Ho vinto No Veloce No aspetta Suora No Oh cazzo Oh cazzo Sono bloccato Un tacchino Veloce Veloce Dov'è il calice? Dov'è il calice? Mi vede? Non mi vede Mi ha visto Alzati Alzati Capra Vai Dov'è il calice Dov'è il calice Dov'è Ma è dentro Ma è fuori È per forza fuori il calice Aspè Eccolo La cupa magica Vai 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 Bom Bom Di qua Ok Ok No la porta Chiudi la porta Mamma mia che errore magistrale Ok come quella volta che non ho chiuso la porta del bagno Beh ecco Ok Non c'è salva partita Il calice è un bellissimo nome da femmina Calice Ovviamente Quelle sono le lacrime di Elon Musk Ma tra l'altro ragazzi abbiamo scoperto cose incredibili In solo Questa settimana Poi non so se sia una fake news o no Però non credo perché Sembra una notizia che poi dopo cerchiamo Dopo cerchiamo Dopo cerchiamo sul Google A quanto pare hanno scoperto tipo un super conduttore Che funziona a Non so perché vi sto dicendo questa roba e non ve ne fregherà un cazzo Ma dopo chiediamo a suor Matilda Un super conduttore Che rivoluzionerà l'industria Non si apre la porta Suora Ma è il suo sangue suora Sanguina per noi Suora Suora che ne pensa di super conduttori Suora 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 Poi c'ho i miei pipistrelli E metto un suono Se rimbalza indietro Vuol dire che è qui Suora 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 È diventata signorina la suora Non ho capito Ah ho capito adesso Ah È ferita Mi piace troppo come tengo la pistola Scusate La chiave Minchia Non m'ha visto? Beh però Shish Ok Esatto Ora Devo andare Perché di qua mi sa che non c'è un cazzo No sì Forse qua c'è il mangime Oh un dormitorio Aspetta Mangime Eccolo qua Il cappello dov'è che era? Dov'è Dov'è il cappello? No 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 Shhh Sì Sì Dov'è che era il cappello ragazzi? Ok quindi abbiamo il mangime E il letto qua dentro E il cappello sul letto E c'è il mangime E il cappello Nel dormitorio Ed è qua dentro Figa ragazzi Nell'armadio? Come nell'armadio? Nel condotto? Nell'altra stanza A zona blu Grazie Attenzione La suora sta raccogliendo il mangime Tu e suora è con una fava Al cinema Mi sta usmando È un segugio Non è un uomo Non è un essere umano Non è È uno shapeshifter È un antropomorfa Hai scritto pure Filippa Ma io ho letto pure Filippa Che sembra il nome di un profumo Dalla fragranza eccezionale Era un ognomo armato d'ascia Grazie Non so leggere Non so parlare Non so Non è il lavoro adatto per me Pure Filippa Sì Fior Fior Filippa mi manca Filippa quella Quella Laida dovrebbe Attenzione Allora Porta rossa non si apre Ma Ho un'idea Un dormitorio Dov'è che è la Il cappello Ma quello era un dormitorio Dov'è il cappello ragazzi Qua No Boh io non lo so Che delirio Che confusione Ma Macello Che succede Tutto il contro Ma quanto è grande Sto posto Dove cazzo Ma non è Non è Vabbè Apriamo tutte le porte Così Casomai siamo Nella merda Abbiamo una via di fuga Ora Quello che mi interessa Sapere È se qua c'è La Come si chiama La possibilità Ah ok Sì volendo Mi chiudo dentro qui E fanculo E siamo in questa zona Perfetto Allora lo shortcut L'abbiamo aperto Ci manca Il cappello Dov'è il cappello ragazzi Non mi ricordo più Dov'è il cappello Perdonatemi Con che violenza Apri i condotti Eh lo vado a testate Quindi Da qualche parte Zona blu Seconda stanza Thank you Thank you Allora zona blu Seconda stanza Quindi non questa Questa Pugie Calugne Mi hai mentito Saziati Della sua carne Mi hai mentito Ah eccolo Madonna È qua Non è entrata qua dentro Vero Ok Sss Sss Sì Sì Ora La rottura di cazzo È che dobbiamo portare Tutte e due Gli item Dal pollo Per forza Per forza di cose E poi cercare Di tirare Sto cazzo di pollo Fino a qui Ma è impossibile Per la prima volta In live Così si fa Così si fa Grande bestiaccia Stavolta apri la porta Di fianco al pollo Esatto È quello Che ho intenzione Di fare Morì provandoci Quindi Entro di qua Olè Sono abbastanza sicuro Che non basta coprirsi La testa Per far sì Che il pollo È uscito È uscito Ho vinto Non basta coprirsi La testa Per far sì Che la Come si chiama Cristo no Si è arrabbiato Per far sì Che non ci fungano Sono abbastanza Convinto di questo Ho bussato A palmo teso Chi l'è? Ui il bestiaccia Grazie mille Bestiaccia Devi farle live Pure da vecchio? Ah Sì Prometto che Oddio C'è una cosa Che si chiama Dignità A una certa Non so Se ho lo sfintere Debole in live Non so ragazzi Beh se continuo Con le Horror Night Non ci arrivo Mi sa Mi prude tantissimo I capelli Scusatemi Ecco qua Aspetta che me li sistemo Non mi ricordo più La strada Vedete qual è il problema Cioè se già non mi ricordo E non sono in grado Adesso Figurati dopo Allora Spavento Ho sentito suoni Allora Per andare Dove cazzo devo andare? Oh no Attenzione Ha citato Gandalf Torno nella tua stanza Shock Ma che assortimento di vini Su ora Il vinsanto Attenzione E l'ostia Ti apro le missioni Ti apro le missioni in fase? Allora Allora Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Ma dove cazzo Sto andando Dove sto andando Adesso mi ricordo Eeeh Oh no Non scenderà mai Non ne hai il coraggio È salita Lo sfottò La burla Do you think Do you think I won't find you? Take care of your share Boo Ok 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 Attenzione Versione 2g life La sciura Come with me Sali Mio dio Mio dio Ok 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 Micchia ma che cazzo di casini Che giro contorto sto facendo Ma tra l'altro Non posso ora anche Ah Qui bello No no spaventa No no Ok si spaventa Però sta andando da solo verso l'obiettivo Beh wow Allora il pollo è È pilotato Il pollo è a servizio del governo I polli non sono Sono robot Sono robot Mandati dal governo Per spiarci Grazie Saz Allora E Il mangime Echilo Poi tra l'altro Mangime per polli Ma perché non mangime Volendo Potremmo mangiarlo anche noi Suppongo No Sono semini No Non lo so Credo che gli stiamo dando da mangiare altri polli Abbastanza sicuro di questo Però se noi lo prendiamo Ascolta questo Se noi ci portiamo con noi il pollo Effettivamente Allora Che cazzo Mi segue? Ok Ha domesticato? Quanto ci mette a mangiare? Eh no eh Ok Questa musica sta arrivando il pollo Se noi ce lo portiamo dietro ragazzi Gli diamo un nome Lo amiamo Lo destriamo Boom Un pollo da combattimento È fatta Ci proteggerà da sua Matilda Lo chiamo eh Questo è il fischio necessario Ok Ok Vieni qui Coraggio Bra 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 Che cazzo Di infarto Venghino i polli Venghino Dai però Sembra una vomitata di gatto Sul palcheva Che schifo Mamma mia Però le animazioni di sto gioco Sono eccellenti Allora Non devo Far suoni Perché altrimenti Su Armatilda Ci sei Entro oggi Dai Dai mamma mia Che nervi Su 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 Oh una palla Ah Tra l'altro Non andatevi Non andatevi via dalla live Perché dopo C'è un grande annuncio Che vi devo fare Ma che cazzo di infarto Che vi devo fare Perché per mercoledì Accadrà qualcosa di eccezionale Sta arrivando Dov'è Sta arrivando Veloce Polo di merda Gallina Del Di Ok 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 Quanto manca Mica abbiamo ancora mezz'ora Eccolo Ecco il pollo Ha fatto cadere il quadro No no aspetta 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 Come faccio a farlo Vieni giù Come faccio a farlo passare Devo farlo passare Posso passare Dov'è il pollo? No no Che sta tornando indietro No Spavent No scusa Scusa Si è trasformata in una suora Oddio Nella catena evolutiva No no Ne chiudi Lucchetto Oh Allora se Se Le rane I rospi Si tramutano in principi I polli Si tramutano in suore Il nome del pollo L'ho amabilmente chiamato L'uccello Ho vinto? Minchia ancora qua E' occupato E' occupato Allora la suora Non credo possa scavalcare Le finestre E i vetri rotti Quindi siamo abbastanza Eccola qui Vedo il riflesso Dei suoi occhi Attraverso le pareti Non so Fare un testo Di Non so Facchinetti L'uccello con la L No L'uccello con la I Maiuscola Si Non ci ammazza Il pollo La suora La suora è il pollo Massivo Vieni da me Coraggio Sta arrivando Vieni così Si Si Vieni Vieni Ok Ma vieni Se l'abbiamo fatta A posto Ma Ma spaventato Scusate Allora Che Basta Sali qua Ah certo Senza becchettare Il pollo Ha avviato il generatore Quindi adesso Devo fare 150 punti E come Funzione E come Wow Come Come devo fare Scusate E ma Prendi la mira E spara Ottieni il punteggio richiesto Cosa devo sparare Devo colpire le zucche E dove sono le zucche Ma il generatore è partito Ma non vedo Non dovrebbero uscire Delle zucche Devo avviare il gioco In qualche modo C'è la zucca in alto Quella zucca lì E basta Ma no Quello non è mica Ah ok È difficile Ehi la madonna Avanti lor signori Ammazzate la zucca Non sparate al gatto Animale simbolo La gatta nera Eccone una Eccone un'altra Il cane Il cane Menosette Non è una zucca Di punti Cosa servono Spara Uccidi Controllo delle masse Non riesco La zucca è un simbolo Lo abbatta La competenza 5 10 Quasi Attenzione ci sto prendendo la mano Signori Signore No Yes Ho 6 secondi 120 Quanto devo fare? Spa Spa Devo fare 150 Pensavo fosse un suono Un po' ricorrente Non vi ricorda qualcosa? Provate a chiudere gli occhi Mi ricorda mio nonno Il respiratore Allora dai Via Uno spasmo No Devo colpire lì Aspetta Olè Via Ma che è sto Paperissima 20 Preso Ok siamo a 20 punti Sì ma non ci sono le zucche Devo sparare le zucche Non ci sono le zucche Un cacciatore irrequieto Spa Dieci punti No Spa Le gatti Punto Tempo 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 Ah Ok Aspetta Mi sto divertendo Era da tanto che non mi divertivo così 65 punti 65 punti 20 secondi Eeeh Sta andando peggio di più 20 20 20 Sì No Spa 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 Non ho preso il gatto Non è vero un cazzo Il cane Il cane Ok 111 111 5 secondi Dammi il tempo Dammi il tempo Veloce No 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 Eeeh Farò fatica Stiamo qua per un bel po' Ve lo dico Eeeh Vabbè Ma che Un cecchino Che è successo Badonna Mi sento quasi come dentro un videogioco ragazzi Sì ma scusa come faccio però mi devo andare di culo tantissimo scusami Ma va a cagare gatto di merda Non è morto Ma le zucche se non mi dai le zucche io come cazzo dovrei fare Abbiamo un minuto di tempo forse è la volta buona Madonna Dai che la suore affianco a noi Dai ce la puoi fare Che ci fa il tifo Sto faticando Dai 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 Inestabile macchina da guerra spara palle Sono tornato tra l'altro alla sala giochi ragazzi Sono tornato alla sala giochi l'altro giorno A parte che i prezzi sono lievitati A posto 158 ho vinto Ma voglio dare il meglio di me Così che nessun altro bambino possa Possa superare questo record Il prossimo bambino che si deve salvare dovrà superare un record impossibile Quindi morirà per forza Ma quanti head shoot Ok Sono tornato alla sala giochi ragazzi Il costo è lievitato Ora 70 centesimi a gettone I gettoni per giocare servono Se ne servono due Cioè fate voi A macchinetta Allucinante Ma quindi mo devo aspettare Non posso lasciarla Ma se lascio la sedia scusatemi Posso Cioè mi tiene Mi salva il punteggio Leva Cosa levo Complimenti Pezzo della maschera sbloccato Ipa ye ya Oh Ah il sorriso Boom Ok Ragazzi Il pollo Continuo a pollare Boom A quanto tempo abbiamo Un quarto d'ora Non so Allora iniziamo a vedere cosa dobbiamo fare Per il prossimo Oh Cristo Non volevo buttarlo giù Ok Ok La depisto Cristo scendi Non scende E' occupato Eh don't run away Ok Ok ci siamo Ci siamo A posta La sua è tornata all'ultimo Giusto per Ehi Io esisto Ok ci siamo Questa qua è il sorriso della maschera Figo Cosa che stavo dicendo prima Ah si sono andato alle sale giochi Ho giocato Non nelle macchinette Quelle dove scommetti Scommetti tutto No no Assolutamente Sono andato alle sale giochi Al bullying Al bullying Milano Fiore Qui a Milano Se qualcuno lo conosce Fa schifo Un posto tristissimo Ci sono quattro macchinette in cross Però è stato divertente Era da un po' Che non ci andavo Ah E' solo un glitch Classico Abbiamo un pezzo Della maschera Olè Ce ne mancano due Quindi nel nostro dormitorio C'era Cioè nella nostra stanza C'era il dormitorio Per i bambini sotto Con tanto di Letto Ma che cazzo Una coppa magica Oltrepassato la porta Dei ricordi Che cazzo vuol dire Nooo Mi pidi per il culo Che sta succedendo Ehm No Che sta succedendo Che No no aspetta Ah Ma a sto punto Lasciamoli lì Ok dobbiamo liberare i bambini Quindi E la suora Non la liberiamo Ma lei non ci dovrebbe Liberare dal male Quadro misterioso Il quadro vuoto Eh ma scusami eh Ci manca la coppa Quindi dobbiamo fare altri due capitoli E che servita sta cazzin Non lo sappiamo Ma c'erano tra l'altro Queste candele Si è aperto qua Che cazzo Oddio L'ansia Ehm Ma tutto a posto Un po' buio qui eh Non sto capendo Mi sta venendo il vomito Un po' claustrofobica la situazione Ehm 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 Sono bloccato È finita È È È finita Sono bloccato qua dentro Cosa dovevi fare Aiuto Aiuto Ehm Ma scusate Ehm Ehm Adesso Ma come Ma si è impallato qualcosa Non Non c'è soluzione Non posso saltare comunque Per chi se lo stesse chiedendo Credo si sia impallato Ah tra l'altro sentite Ho la cintura La slacciata E la patta aperta Perché ho Mangiato da poco Quindi È colpa del mio pc Classico Pensa È un Ehm Diventerà Andrea Una nuova nostra rubrica Non si chiama più I giochi per il tuo pc Ma è colpa del tuo pc La La possiamo fare In un nuovo giornaletto Per gli esperti Ho sbagliato direzione Porca puta Cioè guarda Non si vedeva Sembrava un pezzo della texture Pensavo fosse un pezzo del Del Scusate Scusate Cioè è colpa vostra Sì è chiaro Però Mi insinuo Ma dove cazzo siamo Va bene Va bene No 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 Come ha fatto Entrare di qua Suora Suora Non mi piacciono Questi ricordi Suora Suora Mi sto perdendo Io mi sto perdendo Ma che vuol dire Ma cosa sta succedendo Non va bene Madonna che ansia E Quindi Ok Mi sento più alto Del solito Non so perché Sono io la suora Twist Oh Ma è il più grande Mindfuck Videoludico Che abbia mai Ma che figata Devastante Cioè vuol dire che È stata la suora Fin dall'inizio Ma che cazzo Sta succedendo E quindi No no E cosa sta succedendo Ah no Ok ok È un sogno Orca puttana Vacca bastarda Che schifo Dio santo I bambini No C'è nel senso E quindi E come Scusa E' diventato Un horror vero Non sono pronto Per favore Basta Ma che ansia Ma mi guarda dritta negli occhi Guarda Mi sta guardando dritta negli occhi Dritto Aspetta Dritto Lei guarda me Quindi è lei che guarda dritta Sì giusto Giusto Non va bene Si muove Si muove Ma sono bambini No Sono suore È l'estinzione di massa Dei dodo Mi sto spostando Sto facendo largo Tra cadaveri Incredibile Ma siamo cretini Ma chi è Ah è Cristo Ok No No Non mi vanno bene i corridoi Ok Non mi vanno bene i corridoi Non sono Non sono mentalmente pronto Per questa cosa Che succede? Ehi Sono nell'angolo dell'invincibilità Funziona sempre Funziona sempre Non sono Non sono Non sono pronto Non sono preparato Non mi piace Non mi piace È diventato PT È diventato un gioco È diventato un gioco d'autore Ragazzi Siamo a dei livelli Di horror Forse devo tornare indietro Sangue Sono sicuro che una certa Volteremo l'angolo Volteremo l'angolo E una faccia gigante Della suora Ci inghiottirà Ok Ok Non ce la faccio Non ce la faccio Ok Ma succederà qualcosa No Non dirlo Ok Allora Credo che O torno indietro Ma che cazzo Ma non era Non era spostato Quello Vabbè ok Qualcosa sta cambiando Non ci riesco Attenzione Ma ragazzi Ma che cazzo Devo fare Scusami Ma tagliamo la corta Che serve E tornare indietro E che magari È un È un trucco Della nostra mente Torniamo indietro Il gioco mi fa capire Che avanti Non posso andare Devo tornare Ho giocato fin troppi Giochi horror ragazzi Questa scena L'ho vista mille volte Tra l'altro qua Ah no Pensavo ci fosse un'entrata E andiamo Al contrario Porta Ok È biragione Qualcosa sbuccherà Da lì Qualcosa sbuccherà Da lì Stiamo per avere Un jumpscare Io ovviamente Non avrò paura Ormai forgiato Da ogni esperienza Possibile Dietro la porta C'è un'altra porta Che conduce A un'altra porta Incredibile Che conduce A un'altra porta Che conduce A un'altra porta Che conduce A un dormitorio Girati piano Ok Dietro è buio Quindi Corri Lo sapevo Lo sapevo Tranquilli Tranquilli L'ho detto Non avremmo avuto Un jumpscare La coppa magica Ok 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 E sono bloccato Qui di nuovo E come cazzo Devo aspettare che si riempi Ci piango dentro Figa Figa Che succede Ah mai più Ok Quindi A quanto pare Là dietro Ci sono i ricordi Di chi non so Di chi non so Non so che cosa sia servito Tutto ciò Se un uomo vuole essere primo Gli sarà l'ultimo Ah è la suora che sta Impazzendo nel mentre Però ragazzi Non abbiamo finito qua Ci servono due Cos'è? Ah è la bottola Questa forse L'abbiamo già vista Sta roba Questa forse È la bottola Della nostra Gara sotterranea Della nostra camera Possibile No chiave bianca Che c'è scritto? Penso di essere Il più vecchio Dei ragazzi Qui La suora Il diavolo Non ha pietà La suora Del diavolo Non ha pietà Le piace quello che fa E sicuramente Si diverte Ad umiliarci Con queste maschere Sembra che Ah quindi Ci metteva le maschere Per quello Sembra che Se leviamo E paghiamo Tutti i vestiti Che cadono dal buco Ci porta del cibo Anche se quasi sempre Soffriamo la fame E dobbiamo cacciare gli animali Quali? I ratti? Qualcuno verrà a salvarci? Il ragazzo con le mani sporche Se ne andò Ma non tornò Perché aveva le mani sporche Allora quindi Io credo che Suor Filippa Non sappia Che Suor Matilda Nasconda Dei bambini Nel seminterrato Della lavanderia Anzi si Mi piace pensare Che Suor Filippa E Suor Matilda Sappiano qualcosa Ma la chiave viola L'hai fatta Non mi ricordo Ora Detto ciò Abbiamo una chiave bianca Non so dove cazzo conduca Però ragazzi Non abbiamo più tempo Quindi la prossima volta Lo continuiamo Incredibile Incredibile Adesso Non andate via Perché c'è un annuncio speciale Mercoledì sera Siateci che si fa qualcosa Di veramente interessante Veramente speciale Poi venerdì Altra Horror Night Con Garden of Bamban 4 È vero Perché venerdì È l'undici Esce Garden of Bamban 4 Perciò ragazzi Stasettimana Si gode Dovete esserci Dovete esserci No ragazzi Non continuo Perché ormai è troppo tardi Come cazzo facciamo Non ci riuscirò mai Ma meglio Un capitolo alla volta Allunghiamocela più possibile Dai almeno non è finita Non è finita Non è finita Essi 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 Allora Annuncio allucinante Sen silenzio Annuncio allucinante Annuncio Annunancete Mercoledì 21.30 Ci sarà il pubcast Quindi chiacchiere E conosciamo Dunque un nuovo personaggio Che è sbucato un po' Dall'internet In realtà Era presente Da un bel po' Aspetta che Esco da qui Se no Era presente un bel po' Una macchietta dell'internet Lì Nel sottobosco Forse qualcuno di voi Lo conosce Mi è stato consigliato Da voi Mi è stato consigliato Da voi Sia qua su In chat Sia che su TikTok in generale Ma anche su Instagram Ci sono arrivati Diversi messaggi In realtà In live Alle 21.30 Ragazzi Avemo il piacere E l'onore Di conoscere il buon Nervi Non so se lo sapete chi è Esatto The Dark Hunter Ci sarà lui Ospite speciale Si castegge insieme Conosciamo il personaggio Forse facciamo una giocata insieme Sarà una serata Bella pregna E sarà così che apriremo Il nuovo podcast O meglio Il podcast definitivo Dove cerchiamo All'incirca Ogni due mesi Spero Di tirar dentro Qualche ospite Che ovviamente O fa quello Che facciamo noi O che cazzo Ne so Qualsiasi Qualsiasi sorta Di contenuto Di ospite Possa essere Vediamo 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 Si bello Dai Mi fa piacere Mi fa piacere Suor Filippo Suor Matilde Ma suor Matilde Tutta la vita Ma chi è Non lo so Glielo ho chiesto anch'io Tier list sulla Kinder C'è il link su Whatsapp Adesso Ma non mi fai finire di Ma non vedi Che sto parlando d'altro Ma porca puttana Ma porca puttana Ma va che allucinante Ma che cosa cazzo ridi tu Ma è allucinante E Luca Nervi No ragazzi Allora Per chi non conosce Il personaggio A parte che lo conosciamo Bene mercoledì Quindi siateci Così Facciamo anche prima Però Appunto Io neanche io lo conoscevo Però continuavano a scrivermi Final live con Nervi Final live con Nervi Final live con Nervi E alla fine Dovina un po' Gli ho chiesto di fare un pass Quindi In sostanza E lui fa Gioca Come noi La nicchia dell'horror Sta Avendo un bel successo Perché comunque Sta avendo un bel successo E c'è tutto quanto Un suo canale Sia su Twitch Quindi magari seguitelo Se vi interessa Sia su Su TikTok Sta andando forte Adesso in questo momento Pian piano Si sta espandendo E' bravo Fa ridere E' simpatico Quindi Volevo conoscerlo Volevo capire Perché continuate a scrivere Final live con Nervi Final live con Nervi Non so chi cazzo fosse Ed effettivamente E' simpatico E' simpatico Ci sta E' un simpatico Quindi mi raccomando Mercoledì ragazzi Siateci Io non riesco a trovare La mia fottuta Playlist solita Eccola qui Fermi Fermi Questa Questa No Che succede? No Fermi Questo Si sente? Si Come si chiama? Nervi Con la Y Fa morire da ridere Quanti di voi sono morti? Io prendo molto su serio Le cose Ragazzi Io? Non è vero Un po' di calma Sì sì Mi stai sui nervi E' credo La battuta caratteristica Classica Sì Credo che Una delle nostre domande Sarà Perché ti sei chiamato così? Un po' come la domanda Che ci fecero noi Perché vi chiamate CopTV Noi non sapevamo Non abbiamo mai saputo dare una risposta A questa domanda In realtà è il nome più accattivante Ma in realtà non ha molto senso CopTV Lui forse un senso Al suo nome Al suo nick Ce l'ha Probabilmente Non so Magari è legato all'horror I nervi che ti possono venire per l'horror Che cazzo ne so Ma io che cazzo ne so È un acronimo CopTV Assolutamente No non ne ho idea Ma trovatecela voi Trovate voi una motivazione Per le quali ci chiamiamo CopTV Veramente A parte che il vero nome Dovrebbe essere Cooperation Television Fate voi Fate il cazzo voi Perché Favij TV Aveva un senso TV Il TV c'era Non era solo Favij Ma che cazzo ne so Sono allergico alle Fave E alle J Coppa televisiva La Cop sei tu Non c'era mai Non mi era mai venuto in mente Stavate guardando la Cop E avete ideato il canale No Assolutamente no ragazzi Non so Il motivo principale È perché Dovevamo registrare Dei video su Youtube Perché all'inizio Doveva essere un video su Youtube Dove avremmo Giocato solo e soltanto I giochi cooperativi Con l'etichetta Coop Su Steam E guarda qua adesso È diventato un canale horror Dino qual è il tuo vero nome? Te lo stavo per dire Ma questa zanzara Mi ha distratto Perdonami Luisa Vabbè Allora intanto Mi avete chiesto delle reaction Perciò ricordatevi Grazie mille per le sub Grazie 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 Allora quindi Ricordatevi mercoledì Appunto che c'è il nostro Nervi Parleremo anche un po' Di quello che è tutto il giardino Sì Sì Il giardino dello streaming Quindi anche diversi personaggi Chiediamo un po' I pareri un po' Su tutto Ne approfittiamo per Spettegolare Spettegolare un po' Sugli altri Cosa la pensiamo Degli altri Degli altri Degli altri streamer Dei nostri colleghi Eccetera Eccetera Poi conosciamo ovviamente Buon Nervi E vediamo un pochino Il personaggio Quello che è Eccetera Vediamo un attimino Se riusciamo a creare qualcosa Di diverso Qui su CoopTV Non solo gaming Ovviamente Ma anche un po' Di Di chiacchiere Quattro chiacchiere Così Il pub Il pub Il pub Il pub Nasce per questo Con l'intento Di fare Le proverbiali Quattro chiacchiere Da pub La sera Ditemi Ditemi che quando andate a bere Andate a bere Soltanto negli Irish pub Per favore Altrimenti andate fuori Volate via Domani che si fa? Domani pensa C'è Non me lo ricordo Scrivi live E vedi tu Non me lo ricordo Cos'è che c'è? Don't start together Ah si Con maestro c'è Don't start together Mamma mia Abbiamo iniziato il canale Con don't start together Forse lo finiamo domani Siamo malinconici Questo mese Allora Attenzione Reaction al trailer Path of Exile 2 Credo che avevo visto Qualcosina E sono strabiliato Path Of Escile 2 Trailer Per favore Quello che state per vedere Ragazzi È un gioco gratis Specifico gratis Perché potrebbe Stupire alcuni di voi Ci sono tre trailer Ma Facciamo il terzo trailer Va È un gioco Completamente gratis GDR Diablo like Un altro GDR E indovinate un po' È migliore di Diablo Gratis Con i vestiti Regisiano Gravità zero Questa è la strega The witch The ranger Il duelist Lo shadow Bello Il simulare di combattimento Una figata Il murderer Il combattente Il combattente Allora Path of Exile Ragazzi È un gioco Che a me Ho provato Il primo Ci ho provato Qual è il problema Ha talmente tante Cazzo di Classi Di Wombo Combo E poi detesto Gli MMO Quindi giochi di ruolo Online Il Massive Multiplayer Che mi sono cacato il cazzo Nel giro di 5 minuti Però Devo dire che Questo secondo capitolo Mi intripa un poco Se non fosse che L'HOD È una delle cose Più orribili Che abbia mai visto Guardate che schifo Cioè È una delle L'HOD Più disgustose Che possa esistere Non ho mai visto Una cacata del genere Sto barocco Dappertutto C'è sto tizio nudo qua Sto tizio nudo là Che cos'è sta cornice Fa schifo Ma è gratis a quanto? Forse non mi son spiegato bene Ma quante belle creaturine Mi ispira parecchio Mi ispira parecchio Ah Si è strappato un dito È più grosso di quello che Mi immaginavo The Blind Beast Eh sei cieca La stella marina Ma che figata C'è Il dinamismo che c'è In sto gameplay È buono Cazzo È buono Non so Ma mi proprio Mi ricorda Diablo Più Diablo 2 Che Diablo 4 Credo sia Tra l'altro Non so se Penso siano asiatici Quelli che hanno fatto Prato Vexai Credo sia coreano Non lo so Vabbè Ora bisogna vedere Quanto di questo gameplay Ci sia poi nel gioco Effettivamente Perché questo è un trailer Davy Jones Perfetto Bisogna un attimo capire Poi di quanto di sta roba Sia effettivamente presente nel gioco Ma se lo fanno vedere così Suppongo Cioè non mi sembra niente di impossibile Effettivamente Oddio per un gioco Cioè guarda quante cazzo di classi Ma guarda quante Ma come cazzo si fa Ma guarda Quante sottosezioni Quanta roba Vabbè Per un gioco GDR Massive multiplayer In realtà Non mi sembra neanche Un gameplay così Impossibile Lato tecnico Anche Cioè ci può stare Suppongo Sarà talmente pieno Di microtransizioni Sta roba Che Ogni due minuti Parte un pop up Una pubblicità Mamma calda A due chilometri da te Oppure Non ne ho idea Non ne ho la minima idea Quindi fate voi Nel mentre che sei lì Con la tua arcera Perché sì Lo so che fate i personaggi Femmina solo per denudarle Vergognatevi Partirà il pop up Classico caratteristico Da pubblicità Anche le donne brutte Vogliono scopare E quindi insomma Dino il gioco più bello Che hai mai giocato Horror Path of Exile 2 Lo stiamo aspettando È una delle miglior cose Che ci possano capitare Bestiaccia Quando giocherai ancora Night Security L'abbiamo finito Quindi non lo giocherò più Perciò Perciò Non so quando esse Però vediamo un attimo Vedi Il Path of Exile 2 Quando esse Pronto Bene Chi è che di voi sa Quando esse sta roba Sì ma non può Stanno uscendo troppi GDR a caso Cioè io devo giocare A Baldur's Gate Adesso Tra l'altro ragazzi Mi sta prendendo tantissimo Non mi prendeva così Allora è uno dei giochi Peggio fatti male Della storia Allora Numero uno Non mi rompete i coglioni Con il tuo pc Con il tuo pc è rotto Adesso lo dico Mi sono rotto il cazzo Allora Dopo che abbiamo fatto La live su Baldur's Gate Tra l'altro eravamo in quattro gatti Perché a quanto pare O giustamente In realtà Condivido anche il pensiero Il gameplay Quello diciamo Strategico Il gioco di ruolo Che fa schifo Pure a me Cioè non il gioco di ruolo Il gameplay strategico Come si chiama I giochi Quelli lì Non mi viene il nome ragazzi Perdonatemi Datemi una mano Che il mio cerchio Si è rallentato No non è colpa Del mio pc Adesso vi spiego tutto Negli strategici A turni Grazie Grazie mille Gli strategici a turni Mi fanno schifo E fanno schifo Cioè è oggettivo La cosa Perché è tutto Una tendere Aspettare È una rottura Di coglioni Ragazzi Una rottura di coglioni Però sono un po' nostalgici Per cui Quei ragazzotti Magari che hanno vissuto Gli anni 80 Gli anni A 90 Come noi Quindi ci può anche stare Ci può anche stare Come roba Ti ricorda i vecchi tempi Magari di un Dragon Age No? Al di là di The Baldur's Gate Ovviamente Cioè ci sta Ci sta E poi Divinity Original Sincer La quale io ci ho speso Cento e passa ore Di gioco Perché ho fatto più volte Una campagna Con il nano Quindi Figo Figo E l'unica roba Che riesco a sopportare Degli strategici a turni E quando questi sono In Tempo reale E questo effettivamente Baldur's Gate È in tempo reale Quindi Bene o male Diciamo Che riesco a digerirlo La storia È eccezionale L'ambientazione È una figata I personaggi Mi stanno tutti sul culo Ma ormai Inizio a pensare Che sia io il problema Non i giochi Li vorrei tutti morti Ma tanto lo puoi fare Volendo li puoi uccidere Già dall'inizio Tutti i tuoi companion E già ne uccisi tre Quindi Su quattro Quindi va benissimo Il problema Tra l'altro Sta per uscire Un off screen Dedicato Sabato Quindi preparatevi Su youtube Ma chiudiamo Il problema principale È che questo gioco È pieno di bug È pieno di glitch Grafici E il day one È stato un disastro E voi mi avete commentato Nomadino È il tuo pc Nomadino Io non ho mai visto Un bug Da quando ho iniziato Ossia 20 minuti fa Nomadino Fidati Credo che tu E Redez Avviate il pc Pezzotto No 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 Allora Intanto Non è mio intento Vantarmi Sotto la scocca Del mio computer C'è una 4080 Con altrettanto Una scheda grafica 4080 Con altrettanto Dentro Infilato Super Un Ryzen Non so quanto Sarcazzi 9 Quel cazzo Che è Procreate Maximus 3000 7000 Quindi è una roba Che funziona Ok Cioè è un pc Della madonna Che vale 3000 passa euro Di computer Ottimizzato L'ottimizzazione Scusatemi Non c'entra un cazzo Con il tuo computer Se un gioco È ottimizzato Col culo Come Baldur's Gate Non funziona Su qualsiasi pc Fine Fine Io ho aggiornato I driver Ho preparato Il mio computer Per giocarlo Anche perché Per forza Di cose Baldur's Gate Ti chiede Di installare Gli ultimi driver Per poter essere giocato Quindi a posto Il problema Il problema è che Il gioco È rotto Quindi Questo non vuol dire Che sto dicendo Che un gioco Di merda Semplicemente dicendo Che lato tecnico Questo Baldur's Gate È un disastro Io lo sto giocando Anche in cooperativa Con la Vale Non funziona Una minchia Vi giuro Non funziona Una minchia È infattibile Mi salti i salvataggi Cioè faccio un salvataggio Veloce Dopo quando voglio Caricare la partita Non me lo conta più Mi brucia i salvataggi Anche mi è già successo Di dover ricominciare Un paio di volte Il personaggio si bagga Nelle peggio Tipo osa A posi In mezzo alla strada Una roba allucinante I dialoghi Sono rotti È un gioco a turni Pensate che ogni tanto Salta i turni Bellissimo Sono lì Inizio il combattimento Che è una cosa Che va a nostro favore In realtà Se si gioca in cooperativa Perché più volte Mi è capitato Di iniziare il combattimento Mentre stavo giocando In cooperativa Alla in Colavale E che cazzo succede? Che anziché Farci fare un turno a testa Io e lei Potevamo muoverci insieme A caso Totalmente a caso Cioè non ha senso È fatto male È fatto semplicemente male Speriamo in qualche Ottimizzazione Ma la vedo La vedo grigia Perché secondo me Ormai come nascono i giochi Muoiono Quindi a me purtroppo Dispiace ragazzi Però è la vera A parte A parte la scelta iniziale Che il gioco ti dice In che cosa ti rivedi In un maschio In una femmina In una capra Inizialmente A parte quello In realtà Certo c'è una promiscuità Esagerata Con i personaggi Cioè tutti Ti si attaccano Proprio al capezzale Dai Portami con te Perché non ci uniamo insieme In battaglia Cioè hanno un po' Sto vizio effettivo Di attragli Qua e là Che sistemano tutto Se la situazione Non fosse Fosse un disastro totale Allora posso anche capire Una recensione del genere Ma non è così E poi Kinder pingui Ecco Il kinder Questo qua Cos'è che è Il kinder Cos'è questo ragazzi Che non riesco a leggere a metà Voi forse Delice Kinder delice Kinder delice È il male Cosmico Il kinder delice È troppo dolce Troppo cioccolato Troppo poco latte Serve bilanciare Secondo me No il kinder delice È troppo dolce ragazzi Dopo un po' Cioè dopo Allora io che ma Io sono un ingordo Pezzo di merda Ve l'ho detto? Ve l'ho mai detto? Le mangio Kinder paradiso Effettivamente sento Il paradiso Anche chi è non credente Percepisce il paradiso Ad ogni morso Si sente un Ragazzi Questa è la cosa Più buona Che sia mai stata Inventata Dall'essere umano Lo dico tranquillamente No No Non oso sentire Pareri contrastanti Perché vuol dire Che non capite un cazzo Kinder paradiso È la cosa più buona Che abbia mai fatto La kinder L'unico problema È che è troppo piccolo L'unico problema È che te lo vendono In pacchi massimo da sé L'unico problema È che finisce Kinder paradiso È la cosa più buona Bannate Andrea È la cosa più buona Che esista E che sia mai stata Fatta Kinder paradiso Ora Quel bisbetico So già che avrà detto Che Kinder paradiso Fa chiagare Perché è troppo dolce E ste minchiate qui Poi è quello che Appunto Il kinder Ma che è? Il kinder schiavo Cos'è che c'è scritto? Vabbè Fa schifo sta roba L'ho assaggiato una volta È sbagliato Perché credo che dentro Ci sia pure la nocciola Detesto sentire La nocciola dura in bocca È come se perdo un dente È come se all'improvviso Mentre sto masticando Sento un dente Che si è staccato Vabbè Kinder cioccolato ragazzi Caratteristico Insieme al kinder maxi Anzi Abbassiamo il kinder maxi Teniamo su il kinder cioccolato Perché il kinder cioccolato è buono Il maxi è forse un po' esagerato Kinder cioccolato classico Kinder bueno Allora kinder bueno Cazzo è bueno È bueno Non c'è un cazzo da fare E l'ho gradito di più Man mano che crescevo Crescendo la crescita Mi ha portato a una sorta Di saggezza interiore Mi ha fatto capire Che il kinder bueno E quel suo nocciolato nocciolino Non è per niente male Poi io odoro Il sapore della nocciola Abbiamo poi coco fresh Coco fresh Immagino che dentro Abbia il cocco Quindi immagino Che come minimo Un lato Almeno un angolo Dell'inferno Sia dedicato Al creatore Di questa ricetta Kinder yogurt No ma l'hai messo su B Ma non è vero L'hai messo su B Ma allora Ma è modesto Ci sta Anch'io l'avrei messo su B Hai messo il pingu Il kinder pinguì Su S Insieme al bueno Vabbè ma sono gusti Che posso capire Ma perché mi devi dire bugie Non l'hai messo su S L'hai messo su B Sei un bugiardo Hai messo l'ovetto Kinder su D Tu non fai più le live Tu non Basta Tu non Coop TV diventa Coop TV L'op Se ne va Basta Mi interessa Mi dispiace Fate ciao ciao Non è possibile ragazzi C'è troppa Non si può Non si può Ecco come due magneti Con il polo Con lo stesso polo Si respingono Non è fattibile Mi dispiace Sì adesso verrà cancellato L'ovetto kinder Fa cagare Ma secondo me Tu non Hai almeno spiegato il perché E non dire È troppo dolce Hai almeno spiegato il perché Guarda ho spento anche la musica Perché Io inizio a pensare Che tu dica queste cose Solo per Per andare contro la corrente Certo Ma non ci credo Ok con una parola Dimmi perché Hai un secondo Poi chiudo la live Se non mi va bene Termino la live subito Ed è colpa sua ragazzi Cioccolato chimico Del cazzo acido